Noi il maestro Michele, papà mio. Una coincidenza o uno sprone per i sindaci che malvolentieri accettano le pluriclasse dovute all'eseguità dei bambini. Il fortunato film Un mondo a parte del regista Milani, sindaco di Caramanico Terme Luigi Diacetis, parla del prossimo anno quando la prima e la terza media saranno unite non senza conseguenze per la didattica e non solo. Siamo stati davanti al plesso scolastico di Caramanico Terme che racchiude l'asilo, le elementari e le medie facente parte dell'istituto comprensivo di Scafa San Valentino. Per martedì è previsto un sit-in sotto la scuola per cercare di risolvere le problematiche delle pluriclasse dello spopolamento delle aree interne. Il sindaco ci dice che il fenomeno si sta allargando a macchia d'olio anche in altre zone dell'Abruzzo interno. Più volte sono state sollecitate le istituzioni e il caso è simile a quello che sta accadendo a Castelvecchio-Subequo. Succede che quando il numero dei futuri alunni di una classe scende al di sotto dal numero minimo previsto dalla normativa vigente, per non sopprimere la classe c'è questa possibilità di accorpare due classi, per esempio prima e terza media, in un'unica classe, quindi condividendo il docente e venendo incontro a quello che è il problema della diminuzione di numero. Il problema è che per la prima volta si parla qui a Caramanico di pluriclasse per una scuola media, per cui sia noi come istituzioni ma anche come genitori, anche io ho due figli in questa scuola, ma anche sono rappresentanti di istituto, quello che ci preoccupa sono due aspetti. Da una parte l'efficacia didattica di una pluriclasse in una scuola media e dall'altra parte il fatto che la creazione di una pluriclasse potrebbe comunque essere un po' una sorta di preavviso di future ulteriori chiusure, comunque problemi legati a questa scuola. Noi abbiamo un territorio, come tutti i territori delle aree interne, sicuramente con problemi importanti dovuti allo spopolamento, quindi indubbiamente c'è un numero basso di bambini. Però penalizzarci per questo motivo non fa altro che aggravare ulteriormente questo problema dello spopolamento. Lei parla anche a nome dei sindaci di Salle e di Santi Ofemia Maiella? Sì, i colleghi hanno sottoscritto questi miei appelli, miei, ma anche dei rappresentanti di istituti, di tutti quanti i genitori di questa scuola, perché in questa scuola di Caramanico vengono anche tutti i ragazzi di Santi Ofemia e una buona parte dei bambini e dei ragazzi di Salle, che sono sicuramente comuni più piccoli e quindi già loro vivono il problema di dover venire a Caramanico, ma chiaramente non possono andare oltre questa situazione di disagio. L'attuale quinta elementare conta sette bambini. Dovrebbero entrare poi in prima media. Il numero minimo previsto dalla normativa è di 15, che con le deroghe per presenza di disabilità e di aree svantaggiate potrebbe scendere a 10. Noi siamo ulteriormente al di sotto di questi 10 perché sarebbero sette bambini. Si accorperebbero a una futura pluriclasse la prima media e la terza media per arrivare a un numero che paradossalmente è superiore al numero massimo di alunni per una pluriclasse. Dunque il paradosso, prosegue il sindaco, è che per uno svantaggio si creerebbe un altro svantaggio con i docenti a dover gestire una classe con 20-21 bambini. Intanto il deputato Luciano D'Alfonso presenterà un'interrogazione sul caso di Caramanico Terme per evidenziare, dice, l'inadeguatezza della norma e il fallimento delle politiche regionali per le aree interne.